Cosa pensa di trovare un viaggiatore che si ferma su una riva del Panaro? Cosa spera di trovare? Cosa può trovare? Cosa desidera un bambino che passeggia con la sua classe su una riva del Panaro? Ecco Il fiume con le sue memorie ha già una risposta Va solo svelata e interpretata Il progetto raccoglie parole e segni che il fiume racconta Ecco cosa serve al Panaro per farsi conoscere e amare Il progetto raccoglie parole e segni che il fiume raccoglie